Penso che aldesia. Libertà, passione, estro. Sogni, angoscia e realtà. Bellezza, novità e visual. Sublime, spaventosa ma delicata. Vita, colore, materia. Bellezza, umanità e esplorazione. Visione, denuncia e introspezione. Emozione, comunicazione e umanità. Bellezza, purezza e emotività. Affascinante, creativa e intuitiva. Emozione, bellezza, meraviglia. Cultura, comunicazione e sensibilità. Passione, sentimento e linguaggio. Visione, ricerca, evoluzione. Bello, divertente e interessante. Merida, riuscita, qualita. Attenzione, intenzione. Bellezza, amore e vita. Per me l'arte è... Aggettivo, sostantivo, amorevole. Rifacciamola. Niente, no? Sono data nel pallone. Perfetto. 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 Siamo due anche volentieri.